150.000 euro alle eredi dell'ex macchinista delle ferrovie Dionisio Merli, morto a 64 anni per edeno carcinoma polmonare causato da un'esposizione all'amianto. Va deciso il tribunale di Teramo che ha condannato l'INAIL al pagamento di arretrati, pensione di reversibilità per la vedova e maggiorazioni del fondo vittime. Merli, nato a Colonnella nel 1947 e deceduto il 20 agosto 2011, ha lavorato alle dipendenze di RFI per 27 anni come macchinista nei depositi locomotive di Pescara, Ancona, Alessandria e nel presidio di San Benedetto del Tronto, esposto secondo i giudici alle fibre di amianto senza gli adeguati dispositivi di protezione. Nel marzo 2010 ricevette la diagnosi di tumore a polmoni. Nel novembre 2010 presentò domanda di riconoscimento della malattia professionale all'INAIL che la respinse motivando che fosse un fumatore. Nel 2020 i familiari assistiti dall'avvocato Ezio Bonanni hanno presentato ricorso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Teramo. Dall'istruttoria del processo è emerso che tutte le locomotive delle ferrovie nel periodo di lavoro di Merli, che si occupava anche di manutenzione e riparazione dei locomotori, avevano l'involucro esterno e parte delle zone interne spruzzate con amianto per proteggere dal rischio incendio, fatto che tuttavia determinava il rilascio di polveri e fibre, contaminando tutta la sala macchine. Esaminate le prove dell'esposizione alla fibra in sinergia con altri cancerogeni e le perizie del consulente tecnico d'ufficio, il tribunale accolto la richiesta condannando l'ente previdenziale. La coibentazione con amianto a tutte le 8.000 carrozze circolanti iniziò a metà degli anni 50 e fu interrotta negli anni 90 con la messa al bando del pericoloso cancerogeno. La bonifica è stata poi completata a inizio anni 2000. Nella settima edizione del rapporto Renam dell'INAIL si contano circa 696 casi di mesoteliomi nel settore rotabile, di cui 86 proprio tra i macchinisti, si legge in una nota dell'ONA. La sentenza è importante, spiega l'avvocato Bonanni, perché riconosce il cancro del polmone anche in un lavoratore fumatore che l'INAIL, nonostante le numerose condanne, continua a negare sia malattia a sbesto correlata, costringendo così i familiari dei defunti a intraprendere l'azione giudiziaria.